Ciao a tutti voi da Rosi, siete pronti per le offerte straordinarie in compagnia di Riccardi Auto? Noi sì e le sentiamo subito in compagnia di Marco. Ciao Marco. Ciao Rosi, grazie, ciao a tutti e benvenuti in Riccardi Auto. Come al solito eccoci qui per scoprire insieme tutte le offerte, tutte le novità che abbiamo per il mese in corso. Mese di febbraio che è veramente veramente tanto caldo, carico di promozioni, carico di offerte. Infatti non perderei tempo e partirei subito con tutte le promo. Prima voglio solo spiegarvi un paio di cose. Allora, il mese di febbraio appunto le offerte di cui vi parlavo sono strutturate per le vetture che abbiamo in pronta consegna in stock. E appunto ve ne parlo perché abbiamo veramente parecchie vetture in stock disponibili subito, quindi nel giro di brevissimo. Quindi doppio vantaggio, super scontistica, vettura subito disponibile nel giro di pochi giorni. Quindi non dovete aspettare mesi e mesi per averla dalla fabbrica. Altra cosa interessantissima è che oltre ad avere queste straordinarie offerte per le vetture in pronta consegna, le offerte che facciamo noi questo mese Riccardi Auto, Citroen, sono libere, quindi applicabili a tutti. Che voi abbiate una vettura da rottamare, una vettura da permutare o non abbiate assolutamente nulla, l'offerta è comunque valida. Quindi tutto quello che diremo oggi è valido per tutti, salvo chiaramente il discorso della vettura in stock e in pronta consegna. Parleremo di tutte le linee, quindi abbiamo C3, C3 Aircross, C4, C5 Aircross, C5X, tutte disponibili e le vedremo una ad una. Prima di partire voglio ricordarvi che noi appunto siamo concessionari ufficiali Citroen, ci troviamo in Corso Sempione 68-70 a Dolgiatolona in provincia di Varese e che qui in un'unica sede avrete la possibilità, oltre a scoprire il marchio Citroen, anche di scoprire altri due brand che sono Peugeot e Opel, dei quali siamo sempre concessionaria. Bene, quindi direi di partire adesso Rosi e partiamo con Citroen C3 che abbiamo qui di fianco noi. Qui, quella che vediamo qui in vetrina, è un allestimento U, che è l'allestimento sul quale oggi struttureremo le nostre promozioni. una versione che è già molto, molto, molto completa. Pensate, già di serie, già, fari full LED, fari fin di nebbia, abbiamo già Bluetooth, USB, climatizzatore, comandi al volante, cruise control, tutti i sistemi di sicurezza come il ripartitore elettronico per aiuto frenata d'emergenza e avviso abbandono corsia. Quindi una macchina che in realtà, già di default, è già molto, molto completa. Qui abbiamo un'offerta specifica, il listino di partenza di Citroen C3U è di 18.350 euro e oggi noi, per le vetture in stock, in pronta consegna, vi diamo un bonus di 5.400 euro che vi permette di arrivare a un totale di differenza di, pensate, soli 12.950 euro. Quindi già una cifra per una macchina nuova veramente incredibile. Neanche usati, ormai si trovano a questo prezzo. Qui avete una vettura nuova e che vettura, veramente splendida. Sì, sì, assolutamente. Infatti le ultime vetture usate che ci sono capitate sotto mano o comunque che abbiamo visto effettivamente erano più alte rispetto a questi 12.950 euro. Chiaramente vi ricordo, come dicevo in introduzione, che è vincolante ed è obbligatorio che la vettura sia in pronta consegna, quindi che sia disponibile nei nostri stock. Quindi chiaramente vince il primo che arriva, meglio si accomoda, nel senso che avrà la possibilità di scegliere il colore, la versione, la motorizzazione, quindi la vettura più giusta per lui. Oltre al prezzo in valore assoluto voglio proporvi anche il finanziamento, quindi con Simpli Drive, la formula con valore futuro garantito, che oggi vi proponiamo con l'offerta istituzionale a 69 euro mensili, quindi il canone di Sky, tanto per dire, no? Sì, sì, davvero. Ok, però per la nostra nuova Citroen C3. In questo caso con un anticipo di 3.175 euro. In realtà ha voluto fare un'offerta anche per chi non ha voglia di dare un anticipo, magari il denaro serve per altre cose, e quindi con anticipo zero la stessa vettura ve la proponiamo con una quota mensile che non si alza di cifre astronomiche. Parliamo di 164 euro mensili. Anticipo zero. Citroen C3, nuova di pacca. L'unico vincolo che sia in pronta consegna. E in questo momento ci sono, per cui correte per approfittarne prima che finiscano. Assolutamente. Prima di passare agli altri modelli, voglio solo ricordarvi che su C3, oltre alla versione d'ingresso, abbiamo anche altri allestimenti in pronta consegna, versioni plus, che sono le versioni un po' intermedie, un po' più accessoriate, e le max, come quella rossa che c'è dietro di me, che tra l'altro è anche un cambio automatico, quindi abbiamo sia automatica che manuale in pronta consegna, appunto con più accessori. Bene, adesso direi di passare a C3 Aircross. C3 Aircross è una vettura che si contraddistingue appunto per la sua guida alta sulla strada, compattezza, perché parliamo di 4 metri e 16 di vettura, quindi veramente semplice da utilizzare nella quotidianità di tutti i giorni, ma allo stesso tempo dentro è veramente spaziosa. Quindi i vantaggi di C3 Aircross sono compattezza, spazio e guida alta sulla strada. Quindi queste qui sono le tre caratteristiche che secondo me contraddistinguono C3 Aircross rispetto alle sue competitor. C3 Aircross lo proponiamo con varie motorizzazioni. Abbiamo 1.2 turbo benzina iniezione diretta da 110 cavalli, che abbiamo disponibile in pronta consegna. Ve lo sottolineo perché abbiamo prima parlato appunto delle offerte vincolate alle vetture in pronta consegna, ma libere e disponibili per tutti i clienti, a prescindere che ci sia una permuta, una demolizione o che non ci sia nulla. E quindi io parlo nello specifico del pronto a consegna e mi sposto su questa che abbiamo qui di lato, che ne è un esempio. C3 Aircross allestimento fill, quindi una vettura molto completa. Già di base offre i fari full LED notturni, fari fin di nebbia full LED con la funzione cornering, cerchi design, specchetti ripiegabili elettricamente, vetri oscurati, barre al tetto, display mirror screen con Android Auto e Polcar Play, computer di bordo, quindi una macchina veramente già completa. E noi qua abbiamo arricchito la vettura con questa fantastica vernice e con l'aggiunta delle gomme quattro stagioni. Ora vi parlo nello specifico di questa perché su C3 Aircross non abbiamo più tantissime unità. Vi parlo di questa che bene o male è similare anche alle altre che abbiamo. Ne abbiamo anche un'altra bianca, un'altra grigia scura metallizzata, quindi qualche soluzione ce l'abbiamo. E nello specifico questa è una vettura che di listino costa 24.600 euro. E fino a qui tutto ok. Abbiamo una scontistica libera per tutti, quindi un incentivo per tutti, di 6.250 euro per vetture in stock, pronta consegna targa febbraio, che ci portano a una differenza pensata di soli 18.350. E non sto parlando di una macchina a caso, la versione base, vi sto parlando esattamente di questa qui di fianco a me e a Rosy. Vi parlo però anche della quota mensile. Citroen C3 Aircross, questa, quindi sempre questa qui nello specifico, ve la propongo con 181 euro mensili, con un anticipo di soli 1000 euro. Chiaramente tutto questo è modulabile, quindi potete aumentare, diminuire l'anticipo, aumentare la durata, possiamo sceglierlo insieme. Quindi poi per questo chiaramente vi invito qui in concessionaria. Bene, quindi adesso io proseguirei e parlerei sempre di offerte stock e vi parlerei di C5 Aircross e C5X. Abbiamo alcune unità in pronta consegna, di C5 Aircross e di C5X, sulle quali posso fare delle scontistiche veramente incredibili. Parto da C5X, che raramente abbiamo presentato in pubblicità perché non abbiamo mai avuto tempo, fisicamente non ci siamo mai stati dentro. Oggi ve la propongo perché ne abbiamo una in stock, gemella questa, è l'ammiraglia di casa Citroen, benzina 1200, cambio automatico, 8 rapporti. Pensate, una vettura che di listino comunque, parliamo di 37.850 euro, quindi comunque una vettura importante con un listino chiaramente importante. Ma di importante c'è anche lo sconto. Pensate, 10.950 euro di sconto. L'ho riletto perché non ci credevo quasi. È tantissimo. 26.900 differenza. Quindi 26.900 potreste portarvi via. Citroen C5X, l'ammiraglia di casa Citroen, cambio automatico sull'allestimento più bello. Quindi questa qui, super offertona. Passiamo a C5 Aircross, che qui abbiamo nella versione ibrida, di cui volevo parlarvi. Anche qui abbiamo una versione, una vettura in stock, che l'ibrido plug-in chiaramente è una tecnologia molto avanzata, che però chiaramente ha anche un costo. Parliamo di 46.600 euro di listino. Ibrida plug-in, 1.680 cavalli, con la possibilità di poterla ricaricare a casa, wallbox. Quindi tecnologia di ultima generazione. Qui abbiamo 5.000 euro di ecobonus statale con rottamazione. E anche qua, abbiamo voluto esagerare, 11.700 euro di sconto per la macchina che abbiamo in stock. Totale differenza, 29,9. Cioè, sommi i due ecobonus e questo è incredibile. 29,9. Potreste portarvi via, anche qui, C5 Aircross, ibrida plug-in. Una? È solo una? È solo una, chiaramente. Quindi affrettatevi. Affrettatevi. E invece su C5 Aircross abbiamo sempre anche motorizzazione ibrida leggera, pronta consegna, e anche la motorizzazione diesel. Per non togliere spazio la C4 vi parlo della motorizzazione diesel 1.5, che vi proponiamo con uno sconto di 9.250 euro e una differenza di 31,6 e passerei a Citroen C4 che abbiamo qui di fianco. Anche qui vado, scusatemi veloce perché il tempo è ormai è quasi finito. C4 sconto, pronta consegna, 6.750 euro e vi propongo una Max, versione più bella, cambio manuale benzina a 22,9 di differenza e una versione plus cambio automatico, che è praticamente come questa qua, ha una differenza di 23.300 euro. Quindi prezzi similari. Quindi direi che... Similari e bassissimi in questo momento, quindi correte assolutamente perché solo su vetture in stock, addirittura abbiamo qualcuna che è un esemplare unico, perciò affrettatevi. Insomma, venite qui a parlarne con Marco e con gli altri collaboratori. E ricordiamocelo dove siamo? Sì, assolutamente. Noi ci troviamo in Corso Sempione 68-70, Olgiatolona, provincia di Varese. E niente, se volete contattarci per fissare un appuntamento, in sovrappressione trovate il nostro numero di telefono. Grazie mille Marco, alla prossima. Grazie Rosi. E grazie a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao.